buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al nostro oracolo angelico giornaliero è già uscita la prima carta vi ricordo intanto che se volete informazioni sui costi delle sessioni private dei pacchetti oppure volete conoscere i programmi dei video corsi per imparare la tarologia psico evolutiva con il metodo maya o per imparare la magia evolutiva potete inviare un email oppure potete andare sul sito internet e trovate lì tutte le informazioni ma adesso prendiamo un'altra carta ok abbiamo per oggi le nostre tre carte abbiamo una temperanza il 10 di coppe e il cavallo di bastoni rovesciato se non fosse per il cavallo di bastoni rovesciato io direi che sono delle carte veramente bellissime nel senso che partiamo dalla prima la temperanza di che cosa ci parla la temperanza intanto è un arcano maggiore quindi sta manifestando una fase abbastanza importante della nostra vita sta parlando di una giornata nella quale avremo a che fare con la nostra capacità di comunicare con gli altri o con noi stessi la nostra capacità di trovare un equilibrio nel nostro mondo e quindi un equilibrio sia con il nostro stesso essere con i nostri bisogni le nostre necessità i nostri desideri ma anche con gli altri in modo tale appunto da creare una sintonia fra ciò che noi vogliamo e ciò che il mondo che ci circonda ci sta offrendo la carta della temperanza parla anche di pazienza parla della capacità di aspettare la capacità di comprendere quando è il momento giusto per fare una cosa e quando invece il momento di aspettare o di non fare nulla la temperanza parla di eventi che vengono anche un po guidati dall'alto quindi quando il karma gestisce le nostre vite quando le energie planetarie gestiscono le nostre vite e condizionano appunto le nostre energie personali la temperanza ci parla di unione è una carta che ovvio ora io sto facendo un elenco di tutti i significati possibili in modo tale che noi in modo tale che voi possiate comprendere in generale quale sarà l'energia che sentirete che percepirete quindi ecco la temperanza dicevamo parla di unione se infatti voi osservate bene la carta vedete che questo angelo oltre al fatto di essere un angelo e quindi oltre al fatto di rappresentare il karma in azione o un qualcosa che dall'alto ci guida ha in mano due coppe e versa l'acqua di una coppa dentro l'altra coppa questo è un simbolo di unione un simbolo di contatto fra due persone per esempio o fra diverse parti di noi versa l'acqua delle due coppe quindi è un po come se ci fosse una comunicazione fra queste due coppe ma si tratta di acqua quindi si tratta di emozioni ed ecco perché molte volte viene associata questa carta ad uno scambio di emozioni quindi può rappresentare ad esempio un momento molto importante nel quale noi stessi riusciamo finalmente a prendere coscienza delle nostre emozioni e riusciamo ad accettare queste emozioni con benevolenza con amore oppure possiamo scambiare queste nostre emozioni con qualcun altro possiamo far partecipe qualcun altro di queste emozioni o in ogni caso l'unione questa unione questa compartecipazione parla di un qualcosa che viene anche verbalmente o energeticamente trasmesso da una persona ad un'altra persona magari inoltre se voi andando avanti con l'analisi della carta se voi osservate questa la temperanza questo angelo ha un piede sulla terra ferma e un piede nell'acqua quindi che cosa sta realmente facendo anche in questo caso sta mettendo in comunicazione la terra con l'acqua sta unendo due elementi li sta collegando fra loro l'elemento terra che è l'elemento che parla di materialità concretezza abbondanza necessità materiali e l'elemento acqua che invece è l'elemento delle emozioni quindi sta unendo insieme sia le necessità materiali sia le necessità emotive nostre in questo caso un po di tutti perché è un oracolo angelico giornaliero e riguarda quindi un po tutti parla di energie che ci condizionano la seconda carta è quella del 10 di coppe quindi è quella che parla di famiglia dunque ecco che famiglia relazioni di coppia questa energia questo bisogno di unire di avere pazienza di essere comprensivi ma anche diplomatici perché la temperanza è una carta che parla anche di diplomazia quindi capacità di esprimersi nel modo migliore per farsi capire senza aggressività senza manipolazione è una comunicazione chiara diretta efficace ma molto pulita ed ecco che questo accade a quanto pare nell'ambito delle relazioni relazioni di coppia relazioni familiari o relazioni con amici quindi è una un'energia molto bella perché ci parla di serenità nell'ambito comunque delle delle cose che per noi sono più importanti che sono sempre i rapporti umani l'ultima carta invece è quella che è quella che mi lascia un po perplessa perché è un cavaliere di bastoni rovesciato quindi ecco che questo cavaliere di bastoni rovesciato a questo punto devo darvi diverse possibilità diverse interpretazioni perché potrebbe riguardare a una persona che desidera esprimersi desidera venire verso di noi e manifestare la sua passionalità manifestare la sua energia agire in qualunque ambito della vita agire ma non lo fa non si sente di farla per una questione di poca energia o per stanchezza o per mancanza magari di fiducia ecco quindi o è qualcuno che vorrebbe agire ma non lo fai si trattiene e potremmo essere noi così come potrebbe essere qualcun altro o altra opzione state attenti a questa opzione perché potrebbe essere qualcuno che ci si avvicina con cattiva intenzioni qualcuno che viene a disturbare il nostro equilibrio meraviglioso creato dalle prime due carte perché il cavaliere di bastoni rovesciato quando è una persona che si avvicina a noi in soprattutto nell'ambito relazionale rappresenta la persona che vuole solo giocare che vuole solo divertirsi o che è interessata solamente all'aspetto sessuale della relazione potremmo essere noi potrebbe essere qualcun altro che lo fa con noi quindi ecco stiamo un po attenti a questa carta altra possibilità ovviamente quindi non per tutti c'è il pericolo che un cavaliere di bastoni cattivo si avvicini ma semplicemente magari per molti di noi è una forma di comprensione una forma di comprensione che deriva da ciò che accade nelle prime due carte cioè che per mantenere davvero questo equilibrio per mantenere questa energia così bella e così anche pacata così dolce leggera perché la temperanza parla proprio di leggerezza ecco che noi scegliamo di non agire o qualcuno sceglie di non agire qualcuno sceglie di evitare di agire in modo troppo brusco troppo irruento saprete ovviamente voi che cosa sta accadendo sarebbe anche interessante magari vederlo nei vostri commenti se questo cavaliere di bastoni rovesciato è qualcuno che arriva nella vostra giornata per interrompere la vostra quiete oppure è qualcuno che sceglie di non agire o magari siete voi stessi che scegliete di non agire proprio per evitare di interrompere questa quiete bellissima che si è creata e adesso vediamo un po qual è il consiglio degli angeli per la giornata di oggi vediamo che cosa gli angeli ci dicono eccola qui è uscita la carta degli amanti con l'arcangelo raffaele e in effetti ecco che per molti di noi questa è una carta che si riferisce alle relazioni intime alle relazioni di coppia o comunque agli interessi amorosi che noi proviamo per qualcuno o magari amichevoli comunque si si tratta di relazioni questa è una carta che parla di scelte e che ci dice di stare molto attenti a soppesare le nostre decisioni prima di prenderle prima di renderle definitive sicuramente è una carta che parla anche e che quindi è molto d'accordo con le prime due parla anche di un buon equilibrio parla di buona salute parla di bei momenti bei momenti vissuti in generale con noi stessi e con gli altri però è una carta che ci mette allerta e che ci dice appunto di stare attenti ora dato che sto generalizzando perché questa è una stesa che riguarda tutti ecco che questa serenità potrebbe riguardare un po in generale la nostra vita potrebbe riguardare magari il fatto che proprio in questo periodo alcune cose si stanno piano piano sistemando si stanno equilibrando stanno ritrovando magari un equilibrio che nei mesi precedenti era stato un po perso quindi comunque sia comunque sia ci sono delle scelte da fare e sicuramente se la scelta sarà accettare o non accettare le avanzi di questo cavaliere io vi dico per come il cavaliere arriva è meglio non accettare per il momento l'energia deve cambiare deve essere diversa se si tratta invece di una carta questo cavaliere di bastoni rovesciato che parla di non agire per stanchezza o per insicurezza ecco che allora abbinando questa carta alla carta angelica si tratta proprio di non agire perché magari prima bisogna scegliere bene bisogna scegliere con attenzione che cosa fare ad ogni modo ragazzi state quindi attenti oggi alle vostre scelte per il resto potete andare sul nostro sito oppure mandare un'email altrimenti ci vediamo domani